Allora il nostro progetto è il TubeX e la nostra esperienza è stata fantastica, abbiamo vinto il primo premio e veramente non ce l'aspettavamo perché tutti gli altri concorrenti sono stati bravissimi e siamo molto felici perché ci siamo impegnati tantissimo in questo progetto, ci abbiamo creduto da due anni, stiamo credendo in questo progetto e siamo contentissimi. Qual è la cosa più bella che vi portate a casa? Sicuramente l'esperienza ma anche essere entrate in un mondo bellissimo che è quello dell'innovazione e della tecnologia.